Circa 740.000 articoli di produzione cinese, contraffatti e privi del marchio Cetra, cui creme estetiche potenzialmente pericolose per la salute umana, per un controvalore di circa un milione di euro, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Napoli. Nel capolugo in via De Roberto è stato scoperto un capannone industriale utilizzato come deposito di merce di provenienza cinese. Negli scatoloni che vedete nelle immagini girate dalle fiamme gialle erano già pronte le confezioni che sarebbero state immesse sul mercato parallelo. Una persona è stata denunciata, ma nella capitale del falso i sequestri si susseguono. Nei giorni scorsi era stato scoperto un laboratorio per la produzione di occhiali falsi. Sequestrati 10.000 esemplari con marchio contraffatto. I militari del nucleo radiomobile di Napoli avevano arrestato per contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi e ricettazione, nonché per istigazione alla corruzione, un uomo originario della Guinea è residente a Napoli. Era stato notato mentre percorreva a piedi via Milano, quando i militari hanno cominciato ad avvicinarsi per sottoporlo a Contoli è fuggito ma è stato preso ed arrestato.